Maurizio Fugatti, la Banca Centrale Europea dice che ci sarà una ripresa nell'area euro e anche un calo della disoccupazione, grazie anche e soprattutto all'euro. Voi siete concordi con queste parole? Questi dati al momento sull'economia reale non li vediamo, anzi i numeri e le parole di Confindustria nel nostro paese dicono purtroppo l'opposto. Anche se dovesse essere una ripresa sarà minima dopo due lustri di calo continuo, quindi non sarà certo una ripresa che può portare a una diminuzione della disoccupazione. Quindi a nostro parere o c'è una revisione di alcuni aspetti dei trattati europei, Fiscal Compact in primis, oppure questi auspici che arrivano dall'Europa non avranno nessun tipo di seguito. Per questo l'idea che la Lega sta lanciando di mettere in discussione l'euro, che ha alla base la ridiscussione dei trattati europei, perché se non ridiscuti i trattati la disoccupazione non calerà, l'ultima razza è quella di dire che se non ridiscuti i trattati noi siamo anche pronti a dire che usciamo dall'euro, perché fatti i due conti potrebbe essere più vantaggioso rispetto a questa situazione di negatività totale sui dati economici che c'è adesso. Quindi l'Europa può dire quello che vuole, però purtroppo i dati sono negativi. Ma analizzando la disoccupazione del nostro Paese, lei come giudica il piano industriale del nostro Governo? Ha un piano industriale del nostro Governo? Non ci siamo accorti di questo, non si accorta la Lega, ma vabbè, che non si accorga la Lega può anche passare, non si accorta Confindustria. Ci pare che Squinzi, il leader di Confindustria, sia molto negativo sulle azioni di politica industriale di questo Governo.